La seduta è ripresa, colleghi. Per favore, se potete prendere posto, riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, numero 3.444A, disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriannale dello Stato, legge di stabilità 2016. Ricordo che prima della sospensione è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno Nuti 175. Adesso passiamo all'ordine del giorno Petraroli numero 176. Dal numero 176 al numero 189 sono state accettate tutte le riformulazioni. Il 180 de Villa il parere già era favorevole. Quindi io passerei al 190, se mi seguite, al 190 de Lorenzis il cui parere è contrario. Quindi se non accetta la riformulazione io immagino che lo metto in votazione e dichiaro aperta la votazione. Fusilli, Fanucci, 190 de Lorenzis, Molea, Massa, Monaco, Fanucci non riesce a votare, Andrea Romano,